Salve a tutti ragazzi, sono Mattex e vi do il benvenuto in questo nuovo episodio della nostra carina della Torre con la Fiorentina, quest'oggi iniziamo subito con una gara, affrontiamo il Palermo fuori casa, tra l'altro quest'oggi andremo a vedere poi 4 partite, avremo 3 partite giocate sul campo, una probabilmente andremo poi a simularla così da andare un pochino più avanti, così nel prossimo episodio vedremo poi il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro Bayern Monaco, se non l'avete ancora fatto andatevi a recuperare l'episodio in cui andiamo ad affrontare l'andata, non vi spoilerò nulla, non vi dico assolutamente nulla, vi dico solamente che è stata una grande grande partita a livello proprio di spettacolo sia da parte nostra che da parte loro, quindi mi raccomando se l'avete ancora fatto andatelo a recuperare così bisogna anche recuperarsi l'episodio numero 2 con la Juventus della Champions Story, mi raccomando passateci, molto molto importante il vostro supporto, questa è la formazione titolare del Palermo con cui andiamo ad affrontare, che andiamo ad affrontare appunto quest'oggi, paremo che si pone con Puskas e Nestorowski davanti, Nestorowski però unica punta, Puskas rimane un pochino dietro con Diego, quasi un 3-2-4-1 per il Palermo, una formazione un po' particolare con cui andremo ad affrontare quest'oggi, questo Palermo tutto pronto per Palermo-Fiorentina, calcio d'inizio, chiesa dalla bandina, prova la cross in mezzo, c'è Marco Salonso, la palla rimane lì, attenzione perché il portiere spazza con i pugni, Rabiot, cerca di controllare il palo, Naga passa per Benassi, al volo! Palo di Benassi, col destro, Simeone appoggia Benassi, attenzione a Benassi, l'inserimento di Simeone, Kan Jin Lee lo vede, Simeone, parata, Rabiot, appoggia Kan Jin Lee che rivede ancora Simeone, la seconda volta, non fallisce il ciolito Simeone, 1-0 per la nostra Fiorentina già prima, è successa questa occasione con Rabiot che appoggia Kan Jin Lee che appoggia successivamente a Simeone che si era inserito molto molto bene nell'occasione precedente però Simeone non era riuscito a realizzare il gol, questa volta sì, gran gol della nostra Fiorentina che si porta in vantaggio quest'oggi, 3 punti che sarebbero fondamentali per la corsa allo scudetto contro il Milan, dobbiamo assolutamente far più punti possibili in questo episodio perché abbiamo 4 gare sulla carta che ci vedono favoriti quindi bisogna assolutamente far bene, decimo gol in serie A, in questa serie A per il ciolito Simeone, Ward, sbaglia l'aggancio, quindi c'è Felix provare a recuperare il pallone ancora Ward, attenzione, cross in mezzo per Nestorovski, Ria Puskas palla alta sulla traversa, grande occasione per il Palermo che conclude così il primo tempo Ward, Puskas, Nestorovski, attenzione ancora a Nestorovski Naore, che gol del Palermo che si porta in parità 1-1 Naore, che gol è, che gol, che gran gol del Palermo e porta in parità la gara il Palermo viene, la più che altro la Fiorentina viene sorpresa proprio dal Palermo vediamo Puskas, scappoggia per Nestorovski, contrasto con i difensori, i difensori viola, ali va, Naore da dietro gran gran gol, primo gol in serie A per lui Nestorovski, attenzione, tutto solo, Nestorovski salta Rugani, Nestorovski ha una pratteria davanti a sé dall'altra parte c'è Jones, tutto solo esce Lafont, attenzione a Jones che appoggia il tiro però viene parato dalla Font Palermo che ha rischiato di andare in vantaggio e vediamo qui il tiro l'attaccante del Palermo della squadra di casa Diedu, dalla bandierina prova il cross in mezzo per Nestorovski intercettato da Joe Felix che può far ripartire la sua squadra Joe Felix, tutto solo c'è Ramsey, attenzione, servito Ramsey no, perché viene marcato da tutta la difesa del Palermo Fiorentina prova il contropiede però, contropiede, fermato dall'arbitro che fischia la fine della gara 1-1, solamente un punto quest'oggi portato via da Palermo una vittoria che manca una vittoria che ci serviva assolutamente quest'oggi, tre punti mangiati che poi alla fine sono due perché uno l'abbiamo comunque guadagnato però bisognava assolutamente vincere un punto che guadagna probabilmente di più il Palermo perché ha fatto anche meno durante la gara solamente un tiro in porta che poi alla fine sono stati due perché anche il tiro parato di Lafont conto all'ultimo e più il gol però Fiorentina che perde punti a Palermo ne guadagna invece la Juventus vince 3-0 a Parma cioè contro Parma pardon la classifica al momento vede la Fiorentina meno uno dal Milan però il Milan ha ancora una partita da giocare intanto sale Zagnolo a 74 molto molto bene tra l'altro sto registrando questo episodio poco dopo l'uscita dell'episodio 63 se non sbaglio che è uscito mercoledì quindi se non faccio tutto quello che avete consigliato nei commenti è perché appunto sto registrando poco dopo quindi perdonatemi per quello farò tutto ovviamente nell'episodio successivo Rabia ci ringrazia Kenita ci ringrazia Sturario invece vuole giocare un pochino di più resoconti disponibili quindi ultimi ultimi resoconti dalla Germania non vedo nulla di che il Brasile invece sembra che abbia qualcosa in più ah questo Cardoso sembra interessante c'è c'è Lins che sembra veramente un mostro Carlos Lins attenzione perché sembra davvero un gran gran giocatore ingaggiamolo assolutamente anche questo Rossi non sembra male anche Menezes non sembra male c'è Diogo Neves ma è così così per il resto direi che gli altri possiamo lasciarli lasciarli partire quest'oggi di scena Parma Fiorentina una gara che dobbiamo assolutamente portare a casa vi do il benvenuto in questa nuova partita della nostra Fiorentina quest'oggi affrontiamo appunto il Parma l'arena d'oro di Parma sarà una partita molto interessante dovremmo assolutamente portarla a casa portare a casa ovviamente tre punti dopo il passo falso a Palermo abbiamo fatto un po' troppi passi falsi questa stagione dobbiamo riuscire a riprenderci forse anche che noi stiamo facendo bene il Milan sta facendo veramente il fuoco lì davanti perché sta facendo molto molto bene facciamo un po' fatica a tenere il passo dei rossonei giocatori a seguire ovviamente Eden Hazard sta facendo bene ha fatto bene per adesso alla Fiorentina è stato criticato spesso effettivamente già dal suo acquisto però non ha fatto non ha fatto male speriamo faccia bene anche quest'oggi perché servono tre punti alla nostra Fiorentina chiesa dalla bandierina ancora una volta prova il cross in mezzo per Morata gran gol della nostra Fiorentina che si porta in vantaggio al ventesimo con Alvaro Morata 1-0 gol primo gol del nostro attaccante spagnolo arrivato nel mercato di gennaio un acquisto ben voluto da parecchi un po' meno da altri perché col suo acquisto abbiamo ceduto Ken dandolo in scambio appunto per lo spagnolo però sta facendo effettivamente bene questo è un gran gol il primo gol in Serie A Team speriamo il primo ovviamente di tanti Morata la palla ancora per lui Morata Morata vede bene Zagnolo Zagnolo prova il tiro a giro Zagnolo cosa ha preso il portiere del Parma che tiro di Zagnolo Zagnolo che appoggia Morata Morata pressa riesce a recuperare il pallone attenzione Zagnolo Zagnolo vede Daouda che è da solo Daouda appoggia per Chiesa che chiude il primo tempo così 2-0 Fiorentina ottima azione dei nostri giocatori viola grande recupero del pallone di Morata che poi ha appoggiato Zagnolo Zagnolo ha una buona visione del campo vede Daouda che appoggia piano piano per Federico Chiesa che insacca la rete del 2-0 e porta di due reti sopra la sua Fiorentina andiamo Daouda tocco molto veloce così ha impedito ai difensori del Parma di recuperare il pallone quinto gol in Serie A per il nostro Federico Chiesa Morata lancio in profondità dove c'è Chiesa quest'oggi due si intendono molto bene Sombrero di Chiesa che prova il cross in mezzo Morata al volo la parata ancora una volta del portiere del Parma qui Sombrero di Chiesa cross in mezzo al volo e tiro al volo di destro di Morata giro giro palla del Parma che perde il pallone Morata può ripartire ma l'arbitro fischia la fine della gara termina qui la partita 2-0 portiamo a casa tre punti fondamentali per la nostra corsa alla vetta corsa speriamo sempre di più che il Milan vada a perdere non tanto perché ce l'abbiamo contro il Milan mai mi conoscete sapete che io sono molto imparziale su questo sulle squadre sul tifo però per la nostra classifica per la nostra serie stiamo sperando ovviamente che il Milan faccia dei passi falsi per cercare di raggiungerlo perché adesso il Milan ne ha più uno ma si conferma più quattro facciamo attenzione intanto reso conto su Nicolas Pepe giocatore molto interessante che è andato tra l'altro all'Arsenal nel mercato reale c'è anche Evandro però non mi fa impazzire l'avevo usato parecchio tempo fa però non lo vedo così così Milan Skriniar me l'avete consigliato in parecchi però al momento non è in scadenza quindi direi di divisionarlo un po' da lontano mettiamola così perché non costa ancora un po' tanto quindi aspettiamo aspettiamo Milan che andrà ad affrontare il Frosinone quest'oggi noi contro il Torino Torino che cerca punti per agguantare ancora un posto in Europa League lo vede lontano lo vede col binocolo questo posto ma ci continua a credere e lo farà assolutamente contro di noi attacco con Joao Felix Simone e Momo Salah centrocampo formato da Aaron Ramsey Semedo e Rabiot in difesa Marco Salonso Rugani direi Kowalski e Kenitet con in porta torna la fonta assolutamente ci portiamo magari Jovetici in panchina tra l'altro facciamo una formazione più titolare possibile perché nella prossima partita andremo poi a simularla contro la Sampdoria la simuleremo e soprattutto la partita ancora dopo ci sarà il ritorno all'Allianz Arena contro il il Bayern Monaco tra l'altro piccola revisione i nostri talenti nella primavera perché appunto abbiamo trovato dei giocatori molto interessanti abbiamo questo Carlos Lins che promette veramente molto bene vale 750.000 e ha un gran gran potenziale quindi speriamo di riuscire a prenderlo prima che finisca la serie sarebbe molto 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 bello allora Tommaso Guidi potrebbe far far per noi io direi di promuoverlo in prima squadra ovviamente magari potremmo poi mandarlo mandarlo effettivamente in prestito tra l'altro cambio il numero di maglietta che sicuramente avrà preso la 13 e lo metto nella lista da prestito tra l'altro terzini sinistri mi sono dimenticato che ne avevamo già un pochino abbiamo Gustafsson che è in prestito al Fenerbahce e Feico che è al momento in prestito al Crystal Palace cambiamo il numero di maglietta metterei il numero 18 abbastanza anonimo per adesso per Guidi allora per adesso abbiamo Marco Salonso e Pezzella però nelle ultime partite negli ultimi episodi non mi hanno fatto impazzire entrambi quindi potremmo richiamare Feico che costa 8000 quindi costarmente poco io chiedo a voi lo richiamo oppure no fatemelo sapere voi un'opinione che tengo abbastanza perché vorrei portarlo vorrei riportarlo più che altro a Firenze potrebbe di nuovo far bene però giustamente a carriera ho sempre chiesto anche a voi voglio sapere la vostra opinione così appunto ad andare avanti avanti insieme Fiorentina Torino difficoltà ultime 5 minuti è tutto pronto per la gara e vi do il benvenuto in questa nostra nuova partita quest'oggi di scena Fiorentina Torino dopo il pareggio contro il Palermo e la vittoria contro il Parma la Fiorentina scende in campo per cercare un'altra vittoria questo oggi contro il Torino Torino che non vorrà sicuramente farsi mettere i piedi in testa un Torino molto molto interessante dei giocatori molto forti molto promettenti tra l'altro Torino che sta portando su Youtube Mr.FM quindi se non l'avete ancora fatto vi lascio il link in descrizione per andare a vedere la sua carriera molto molto bella sta facendo un gran mercato tra l'altro adesso è in zona mercato di mercato invernale quindi mi raccomando fateci un salto dateci un occhio e dite che siete passati da qua quindi mi raccomando vi lascio tutti i link in descrizione inquadrato il nostro attacco Momo Salah Simeone e Joe Felix speriamo ovviamente di riuscire a farli segnare speriamo di riuscire a far bene con questo tridente davanti inquadrato tra l'altro Aaron Ramsey capitano quest'oggi Aaron Ramsey ha fatto molto bene in Champions League speriamo che li faccia poi bene all'Allianz Arena però quest'oggi ovviamente deve confermarsi perché abbiamo visto Aaron Ramsey ha fatto molto bene a volte e altre volte invece è stato un po' un po' non dico scarso però ha fatto ha fatto peggio del solito quindi speriamo ovviamente che sia in forma speriamo ovviamente che possa far bene in tutte le gare da qua alla fine della serie questa è la nostra formazione titolare con i sostituti accanto ci portiamo ovviamente Chiesa e Jovetic in panchina questa è la nostra formazione abbiamo vista già nel pre-gara dove appunto la stiamo un po' studiando con Joe Felix Simone Salah davanti Ramsey dietro le punte questa è invece la formazione del Torino che tra l'altro ha Boetius in panchina c'è anche Michele Marino il nostro piccolo talento in presi c'è anche Krikowiak molto molto forte questa è la formazione titolare con Piatti e Gabbiadini davanti Berengher sulla sinistra tutto pronto per Fiorentina Torino Momo Salah attenzione le finte Momo Salah prova a saltare Berengher Salah ci riesce Salah Salah salta tutti Salah ancora la finta la palla per Simeone 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 col mancino non fallisce porta in vantaggio i suoi grande azione in solitaria di Momo Salah che porta avanti il pallone lo porta in area servendo poi il ciordito Simeone che non fallisce 1-0 si parte subito forte con la nostra con la nostra Fiorentina tutti ad esultare sotto sotto il nostro sotto i nostri tifosi vediamo qui Momo Salah una serie di finte che riesce in cui riesce a saltare tutta la difesa Simeone controlla il pallone quasi una finta di tiro e poi col mancino in fila Sirigo undicesimo gol in seria per lui Iago Falke sulla fascia Iago Falke prova un cross trova però Piatti che l'appoggia in mezzo per Danilo che con un colpo di testa pareggia i conti 1-1 tra Fiorentina e Torino qui un gol che non veramente non me l'aspettavo non mi aspettavo questo gol non mi aspettavo questa azione perché pensavo di più in un possibile cross di Iago Falke dalla destra poi Iago Falke è appoggiato per Piatti che crossa in mezzo pennella questo pallone per Danilo che porta in parità i suoi 1-1 primo gol in seria mete Schneiderlin Piatti ancora Schneiderlin rivede Danilo Danilo il tiro e 2-1 Torino rimonta la Fiorentina con Danilo 1-2 alla fine del primo tempo ci fanno questa questa beffa qui sorpresa la difesa della nostra della nostra Fiorentina 1-2 tra Krikoviak e Danilo molto molto fluido ridiamo qui Danilo Krikoviak Danilo e 1-2 Torino in vantaggio Momo Salah prova il contropiede della Fiorentina attenzione perché Simone si inserisce molto bene alle spalle di Izzo Simone Simeone Simeone 2-2 pareggia i conti a sua volta la Fiorentina con la doppietta del ciolito Simeone qui Salah vede un ciolito Simeone scattare come un fulmine in profondità davvero un passaggio perfetto quello di Momo Salah dodicesimo gol in seria team per il ciolito Simeone in questa stagione perché la scorsa stagione ne abbiamo fatti veramente tantissimi palla per piatti il Torino prova ancora ad inserire un gol nella porta avversaria qui però fallo di Daoud attenzione perché l'arbitro arriva minaccioso qui rischiamo rischiamo il rosso arriva attenzione l'arbitro che tira fuori il cartellino ma è giallo Mahmoud Daoud ammonito col cartellino giallo rivediamo qui fallo brutto fallo fallo brutto fallo tattico abbiamo provato a fermare l'attacco del Toro ora Gabbiadini dal punto ribattuto al cross di mezzo per me Itè la palla attenzione perché era arrivata all'attacco e non ho visto chi fosse in attacco ma abbiamo rischiato veramente tantissimo qui Rugani ha salvato la gara perché lì era gol lì era veramente gol era l'attaccante davanti alla font per te che però finisce qui 2-2 altro pareggio in questo episodio io ovviamente li conto come 4 punti persi si possono contare come 2 punti guadagnati però nella corsa al Milan nella corsa contro lo Scudetto questi sono 4 punti persi Lazio-Cagliari intanto 0-0 Cagliari con cui ho fatto la mia squadra ho fatto anche poi la Lazio quindi molto carino questo scontro scontro tra un po' tra il passato però ovviamente ricordiamo un po' di più Watford e Seltavigo tra l'altro fateci fate già poi un'idea per la carriera su FIFA 20 quindi se avete già qualche consiglio scrivetemelo qui sotto nei commenti con qualche squadra qualche giocatore magari su cui puntare ma appunto qualche progetto qualche squadra da andare poi magari di usare così giusto per farci un po' un'idea intanto Hazard chiede di giocare contro la Sampdoria perché no potremmo quasi farlo giocare gioco poi Felix nella partita contro contro Bayern anche perché gioco Felix è veramente troppo stanco per giocare questa gara rischia poi troppo di infortunarsi allora ritorniamo al nostro 4-3-3 perché un po' funziona un po' no con con la punta dietro il centrocampista dietro più che altro dietro le punte avanzato quindi nella nella formazione Hazard Jovetic Chiesa Benassi Labio Sturaro Calabria Milenkovic scusate e torna Bruscia in porta ci portiamo Simeone ovviamente in panchina teniamo caldo Morata per la partita contro il Bayern Monaco assolutamente non dobbiamo farci scappare l'ottavo di finale perché abbiamo fatto bene l'andata inizialmente ancora visto recuperatevelo e dobbiamo fare assolutamente bene il ritorno Fiorentina Sampdori tutto pronto per questa gara forse la prima partita simulata di questa serie una delle prime comunque Antozard porta in vantaggio i suoi Pezzella infortunato facciamo facciamo attenzione Calabria ha munito si sta per concludere primo tempo ha munito anche Benassi Falcao pareggia i conti per la Sampdoria intanto entra Daoud entra Guidi perché Pezzella infortunato magari non è riuscito a terminare la gara manca 5 minuti attenzione Jovetic 2-1 Jojo Jovetic ci regala la vittoria 3 punti contro contro la Sampdoria a me sinceramente non piace simulare le partite però avendo questa questa gara contro Bayer Monaco così a breve mi avete consigliato di simulare qualche partita in più così da rendere un po' più veloce la serie di fare un po' più di partite e così da rendere un pochino più dinamica effettivamente la serie continuiamo i nostri allenamenti però qualcosa modifichiamolo perché vorrei allenare il piccolo Lins che veramente promette molto 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 bene quindi proviamo ad allenarlo alleniamo ancora Villar alleniamo intanto Guidi arrivato in prima squadra da poco ovviamente proveremo a cederlo in presito fatemi sapere se richiamare se richiamare feico anche perché adesso Pezzella è infortunato non so per quanto vabbè 4 giorni quindi salta la partita contro il Bayern ma ci sarà ci sarà Marco Salonzo sicuramente motiviamo i nostri giocatori della Fiorentina tra l'altro dicevo anche di feico perché non è cresciuto molto quindi potremmo poi effettivamente farlo crescere noi direttamente con gli allenamenti prepariamo la formazione per la partita contro il Bayern Monaco e poi ci andiamo a salutare e andiamo a chiudere l'episodio allora attacco con Felix Morata Salah in centro campo Daud Sturaro e Semedo che se Daud non mi piace metterlo a mezzala Alonso Rugani Nastasic e Calabria per adesso con la fonte in port non abbiamo Ramsey che è stato non espulso ma doppia doppia munizione io direi di portare Hazard direi di portare Hazard il Felix è un pelino più fresco però Hazard è un pochino più pronto per queste gare l'abbiamo comprato per questo tipo di gare ovviamente Eden Hazard allora prossima partita contro il Bayern Monaco sarà una partita super super importante per il proseguo della nostra serie poi avremo la partita contro l'Inter in campionato ci sarà anche la partita contro l'Udinese e poi vedremo se fare quella contro Roma in Coppa Italia al momento la situazione in campionato è questa siamo a meno 6 dal Milan ci sono ancora tante gare noi abbiamo finali di campionato mostruoso con Lazio Napoli e Roma però fino ad allora sono partite relativamente tranquille sulla carta diciamo ci vedono favorite però ovviamente mai dire mai perché abbiamo visto anche in questo episodio abbiamo perso punti contro squadre qui dobbiamo fare assolutamente punteggio pieno però non dilunghiamoci troppo mi raccomando lasciate un mi piace per supportare la serie iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto noi ci vediamo alla prossima sempre qui sul mio canale ciao ragazzi ciao